Segui La Sette anche su Instagram. La Sette ovunque con te. Intanto, voi avete stanziato un contributo per gli sfollati, ho capito bene? C'è una novità che credo non sia mai stata praticata prima in Italia. La firmo io come commissario straordinario all'emergenza. I comuni cominceranno nei prossimi giorni a distribuire moduli nei quali ci sarà zero burocrazia né serve un professionista per dare a tutti quelli che hanno avuto un danno immediatamente 3.000 euro. Parliamo in questo caso non delle imprese perché il tema è di altra natura, parliamo delle famiglie dei cittadini. È un piccolissimo primo contributo ma che credo in solido serva per chi ha avuto dei danni. Quindi 3.000 euro che noi rifonderemo il più brevemente, il più velocemente possibile. A fianco a questo verrà dato un altro modulo che serve invece per ciò che riguarda i danni che hai ricevuto. Non solo per chi ha avuto danni e lì vanno quantificati rispetto al mobilio, alla casa, ma anche per coloro, mettiamo insieme anche coloro, che magari non hanno avuto l'acqua in casa, ma la cantina, il garage, la seconda casa, la seconda casa oppure l'automobile. Perché da questo punto di vista solitamente non vengono mai rifondati i danni. Noi pretendiamo che vengano rifondati al 100% i danni per chi ha subito imprese... Da quei 2 miliardi che ha stanziato il governo? No, questi riguardano i 20 milioni di euro messi a disposizione della protezione civile, i 200 milioni di euro che la protezione civile mette a disposizione e io attraverso quella cifra come commissario straordinario della Costituzione vado a fare quell'investimento. Tant'è quella scelta che in questo momento, mentre io le sto parlando, la vice sindaca Apriolo, che è anche la delega della protezione civile all'ambiente, è in riunione con i sindaci e con la protezione civile. Mi faccio ringraziare il capo della protezione civile, Francesco Curcio, tutte le donne e gli uomini di quella nazionale, di quelle arrivate da altre regioni. Lo facciamo anche noi tutti i giorni per quello che abbiamo visto. Stanno facendo una riunione proprio per organizzare tutto questo.